Ciao ragazzi, io siamo i PocoGamers, io sono Tsuki e io sono Ryoza. Eeeh, che bello! Oggi proveremo un nuovo gioco direttamente da Steam, ovvero Heartbeat Regret. È un horror, ragazzi. Penso si fosse un po' capito. Eeeh, niente. Spero di non spaventarmi troppo. Cominciamo. Ah, che bello, il battito cardiaco. Oh! Allora, riassunto. No, c'è un tizio dietro di Teddy. No, è un orologio. Ah. Comunque, a questo signore è stato trapiantato un cuore. Ok. E praticamente si è ritrovato nei pressi di questa villa. Pare che sia stato... Eh, come si fa? F, prova F. Ah, bisogna scrivere. Allora, in questa casa il tempo è legato al mio battito. Ascoltano e muoviti avanti. Ok, riusciremo a fare l'intro perché ti sei ritrovato all'interno di questa villa. Era inseguito da qualcuno e a quanto pare, boh, si è perso. Allora, dobbiamo muoverci al ritmo di tempo. Il tempo. Ascoltano e stai. Ascoltano e stai. Descoltano e stai. Inchiutate io. Questa cosa di muoversi a tempo è una rottura. Anche dover scrivere per fare le cose. Sì. Sì. Ok. Ma cosa dobbiamo ascoltare? Che suono? Duu. Sì, sì. Vabbè. Sì. Proviamo a scendere. Ma non è neanche questo pauroso, rio. Ok. Non è tanto sono veloce a scrivere, raga. Non era qua il mio cane. Il tuo cane? Boh, c'era un cane. Vedi che c'era un cane. Cosa c'era? Hai visto il cane? Sì. Ma è scomparso. Ah, poi è per salvare. Bello sto gioco, raga. Beh, come si dice? Fantasioso, sì. Un po' monotono. Al momento sì. Allora, il sistema di gioco è interessante perché non l'ho mai visto. Vorrei capire chi ci sta parlando. Eh. Quando il mostro si avvicina, tieni premuto su finché non passa. Quale mostro esattamente? Quello era il mostro! Bene! No, perché? Perché non si apre. Non voglio andare da lui. No, no, no. Perché? Si vede nulla. Questo schermo non si vede nulla. Salvi su! Corri un pelo veloce il ragazzo, eh! Ma cosa mi avete dato da mangiare? Fatemi capire. Mi avevi aperto la porta. E dovevo andare lì, non c'era altra strada. Più che altro. La cosa... Quanto veloce corre sta roba! Ok, il mostro lo sta. Appena torna indietro poi lo apro. Ne apro. Rimani in su. No, fallo andare via! Se colo me devi rimanere fermo e lui se ne va dall'altra parte della... Ho capito, ma aumenta il battito. Io non brivi, lei è un infarto. Eh, ho capito! Rilassati! Tanto mica sei morto te, sei morto io. Che vuoi? Vediamo un po' se passa. Ciao! Ok, adesso si, cambiamo. Vedi però che aumenta un botto il battito. Eh, lo so, però devi fare in fretta. Cosa è quel mobiletto? Open. Cabinete. Eh, vabbè! Uno non può fare un errore di battito. No, non dirmi che è da quella parte. Contro la cosa c'è su. No, qua penso che andiamo. Guarda, io penso che qua ritorniamo dove eravamo pure io. Sì. Eh, calmino! Mamma mia! Ora che c'è il mostro c'è più ansia, ragazzi. Ok, appena va via secondo me. Allora, io da qua non vedo quindi non riesco a dire. Allora, tanti cani prima, lascio solo la R. Eh, dai, eh. No! Sei morto! Te l'ho detto che non può starci troppo così. Capisci perché non volevo starci? Gli viene un infarto. Perché questo deficiente, a parte che non sa camminare normale, che deve battere a tempo col suo battito... Che ne si batte? Deve camminare a tempo col suo battito cardiaco. Gli viene pure un infarto se sta fermo. Uh! Sta arrivando. Dai, muoviti! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì un mostro gigante così non sa aprire una porta, parliamolo ce l'aveva fatta? ah, eccoci qua te lo immagini crepare libero l'infarto mentre siamo lì? io non sei iscriver si ma che ansia sta roba allora raga fateci sapere cosa me ne pare è molto originale è uno sclero questo gioco il battito non si sente benissimo io non so in video se si sentirà bene in cuffia non è che si senta così bene poi la meccanica del mostro la rottura di scatole così devi stare e gli viene un infarto esatto fatemi capire se uno si mette così al muro forse perché non respira e quindi va in tachicardia però se trattiene il fiato capito in quei momenti ok c'è una spiegazione logica no perché 3D non ha senso che ti aumenti l'attachicardia e fate quello che dicevano ma al minimo senso il sangue pompa quando non c'è ossigeno ossigeno no? ascolta non farmi domande che potrebbero rendermi più stupido ancora all'audience in caso scrivete no a Zucchi lasciamo la risposta a San Google no a Zucchi se non ne sai no ti hai fatto una domanda non hai dato una risposta fatti furba ragazza mia fatti furba e niente raga fateci sapere cosa ne pensate nei commenti nel frattempo prima del prossimo fantastico video sul nostro canale Zucchi vi invita seguici su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione iscrivete al nostro servizio iscrivete al canale è zitto tu che sto facendo l'ending devi fare l'ending a tempo col battito iscrivetevi sul nostro servizio e niente niente non hai detto niente ti sei cicciato niente è quello che hai detto basta allora neanche tutto tu stai zitto fermo lì il mostro lo stesso deve stare zitto e niente ok eeeeh ascom facciamo non è meglio così prima del prossimo fantastico video sul nostro canale Zucchi vi invita si ci sono tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione iscrivetevi al canale condividete mettete un piaccio attivate la campanella supportateci con tutte queste azioni e noi ci vediamo alla prossima fateci sapere se volete vederne ancora di questo gioco raga e alla prossima ciao non si chiude il video prima della fine dobbiamo far crescere la famiglia dei cioccovini qui in alto vedrete lui e Bocco in versione mignone cliccando su di noi e attivando la campanella non vi perderete mai più i nostri video fate conoscere il poco gamers a tutti i vostri amici e lasciateci un like e un commento per dire la vostra grazie per essere arrivati sin qui nonostante si due ci vediamo alla prossima